Menzone in stile industrial in 5 step. Ho iniziato tagliando il profilo quadro in ferro e poi con la smerigliatrice Bosch Advanced Grid ho smussato gli angoli per preparare i componenti alla saldatura. Ho quindi unito tutti i componenti cercando di mantenere tutto in posizione per garantire la massima precisione. E con un pezzo di monostrato di abete che mi avanzava da un precedente progetto ho creato la base. Infine con il trapano Bosch Advanced Grid ho preparato la struttura per i tasselli e con l'universal hammer ho fatto i fori nel muro. Questi utensili fanno parte della gamma Power for All Alliance di Bosch che con una sola batteria da 18 volt a litio alimenta più di 40 utensili rendendo tutto più semplice e veloce. Infine ho fissato la mensola al muro ottenendo così una semplice ma bellissima mensola in stile industrial. Chissà se a David piace. E a te?